Continua senza sosta l'ondata di sbarchi di immigrati sulle coste italiane. L'ultimo episodio risale all'alba di questa mattina a circa 11 miglia a largo di Capomolini, una frazione di Acireale. Qui la motovedetta della Guardia di Finanza ha soccorso un barcone con a bordo 110 persone di origine egiziana e siriana per la maggior parte giovani. I finanzieri hanno potuto constatare il buono stato di salute dei migranti, eccetto due trasportati in ospedale per fini precauzionali. Giunti al porto di Catania intorno alle 9, sono stati condotti verso i servizi di soccorso e identificazione, ospitati temporaneamente presso una struttura apposita. Secondo gli investigatori, anche in questo caso, gli stranieri sono stati spediti in Italia utilizzando la tecnica della nave madre, un grosso mercantile sul quale i migranti vengono caricati e poi in prossimità della costa reimbarcati su una carretta del mare, trascinata a rimorchio. La Sicilia non è l'unica regione ad ospitare migranti in questo momento. La Calabria, infatti, ha visto il quindicesimo sbarco degli ultimi otto mesi avvenuto nella zona della Locride, precisamente a Rocella Ionica, dove sono stati tratti in salvo 162 immigrati, il racconto degli extracomunitari agghiacciante. Il peschereccio, intercettato nella notte dalle fiamme gialle e dalla capitaneria di Porto, si era allontanato cinque giorni fa dalla costa greca, trasportando siriani e somali. Tra questi 28 bambini di età compresa fra i tre mesi e i sei anni e 21 donne, di cui una incinta di sette mesi, che per fortuna non ha riportato danni alla salute, così come il resto dell'equipaggio.